Eccolo la, stai lì, bravo, muovi bene con le braccia, occhio alle meduse, ok bravo, bravo è la capriola, movimento anche gli ostacoli, bravo a fare gli ostacoli in quella maniera, senza toccare gli ostacoli. Quando abbiamo finito il nostro giro andiamo a recuperare il pallone del quadrato, ok molto bene, riconosciamo la campanella? Bene, andiamo, andiamo di conduzione in campanella, vai! Come fa a mancare? Perché adesso siamo dispari, vero? No, però ce n'è uno qui.